Salve a tutti ragazzi, oggi noi su YouTube sono sempre sapene come sapete voi e oggi devo fare un gioco dove devo aiutare un gruppo di criminali a scappare dalla prigione il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 E' da bordo! E' da bordo! Mio! D'accio! ah che schoo! beh! ehehehheh chuchu chuchu ch tutto, ch tutto anche qualcosa oh no 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 no! ah sim Oh Prozio 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 Pagoscano un boom, non ho parecchio ma non lo scopo le gai. Prozio! Ahah! Chissio! You mad, bro? You mad, bro? You have no chance to survive 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 Make your time Make your time Make your time Keep going You have no chance to survive You have no chance to survive You have no chance to survive Whoa Cosa è? No Ma deve andare a capire dove andate? Dove andate a capire? Dove andate a capire? O come è tutto? Dove andate a andare? Dove andate a capire? Sì, dovete camminare Cosa è? Sì, dovete camminare Cosa è? Sì 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 Sì, sì, sì. No, 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 no. Cheggio! Cheggio! Stai che prossimo già lasciava! Stai! Perchè a pia, ciò che abbiamo fatto! che è riuscita per andare noi dai c'è no qua c'è no qua ci sono qua se non c'è no qua ci sono qua Ahahah! You mad? Ahahahah! Perfetto! Perfetto! Chissi! Chissi! You have no chance to survive! che qua ci si ci si allora io sono qui andate da guardare e se vi piace mettete il video sotto nei commenti e e non vi ho detto anche in altri video iscrivetevi al mio canale intanto non vi baggo non vi preoccupare tutto gratis e mi raccomando rimanete sempre aggiornati sui miei nuovi video attivando la camera della rosa camera tipica appunto i nuovi video che faccio e allora buona giornata e ci vediamo al prossimo next video ciao ciao ciao